Per 120 chilometri a quello della imminente Milano Sanremo, la coesistenza nella stessa squadra di Gimondi e Motta. Se questa attesa è andata quasi immediatamente delusa, in quanto i due campioni hanno condotto una gara all'opposto, divisi per tutta la sua durata, uno nel gruppetto fuggitivo ed uno nel protone sempre distaccato, la Genova Nizza ha offerto validi motivi di interesse. Questa classica passerà alla cronaca come una gara che Adorni voleva vincere, che Gimondi avrebbe meritato e che invece ha rilanciato Luciano Armani. È comunque, in un periodo nel quale gli stranieri vincono facilmente in Italia, un confortante successo in terra straniera, anche se oggi il ciclismo francese non è certo in auge. Subito dopo la partenza scatta lo spagnolo Luiz Occagna, raggiunge un vantaggio massimo di due primi. Poi dal gruppo escono 16 corridori, tra i quali Gimondi, Adorni, Pulidore e Campaner. L'accordo viene presto raggiunto e a Borghetto termina la fuga solitaria di Occagna. Nel frattempo Adorni e Gimondi spingono con decisione, il vantaggio sul gruppo nel quale Motta si mantiene costantemente in posizioni centrali si stabilizza intorno ai due minuti. In via Roma, proprio sotto lo striscione dove si concluderà la Milano Sanremo, passa primo Gimondi, è un augurio. Nessun'altra nota fino a Mentone, dove inizia la salita che porta al col della Madonna. Il gruppetto si è frattanto assottigliato. Ne esce Leif Mortensen che tenta l'avventura solitaria. Gimondi in buone condizioni aumenta l'andatura, cede Adorni, ma sulle ruote rimane Armani. Sulla sommità della dura salita le posizioni non mutano, anche se i distacchi sono raccolti nello spazio di una manciata di secondi. È in discesa che Gimondi con la ruota Armani raggiunge Mortensen, mentre Pulidore e Michelotto seguono con buon ritmo. Sul traguardo Armani si stacca finalmente dalla ruota di Gimondi e vince. Terzo è Mortensen. Quarto Michelotto. Gimondi, seccato, se ne va direttamente in albergo. Armani, che colloca il suo nome in un albo nel quale l'ultima vittoria italiana risale a 65 con preziosi, riceve fiori, applausi e la medaglia della fondazione Zeffirini.